Mettere tutti d'accordo o quantomeno ridurre il più possibile il numero di scontenti che non sono pochissimi come del resto è lecito attendersi all'indomani della nomina di un esecutivo. Il sindaco di Salerno Enzo Napoli è ad un bivio. La scelta certamente ponderata di procedere a nomine lampo andava anche nella direzione di anticipare i tempi e tagliare alla radice eventuali rivendicazioni. Ma immaginare che potessero sparire del tutto era quasi impensabile. L'elenco dei cosiddetti malpancisti non è proprio da poco. Al primo posto Pachi Memoli candidata cinque anni fa con l'esponente di centrodestra Anna Ferrazzano e oggi donna più votata in assoluto nella lista Campania Libera e non solo. Meritocrazia equoterose queste sconosciute la Memoli ha affidato ad un manifesto la sua delusione. Fuori dall'esecutivo anche l'ex presidente del consiglio comunale ed uomo di fiducia dell'onorevole Tino Iannuzzi Antonio D'Alessio con 1700 preferenze aspettava un riconoscimento che però non è arrivato ed il suo posto alla guida del parlamentino sarà preso da Alessandro Ferrara. Fuori dall'aggiunta anche Mimmo Ventura terzo in assoluto nella compagine dei progressisti e l'elenco sarebbe ancora lungo. Per uscire da un angolo nel quale è finito non solo per le rivendicazioni degli esclusi ma anche per le polemiche sulla nomina d'assessore di Roberto De Luca il sindaco Enzo Napoli è pronto ad assegnare parecchie deleghe consigliari e ad equilibrare i rapporti anche attraverso l'indicazione di presidenze di peso. Insomma in attesa della proclamazione che arriverà ad ore visto che solo stamattina termineranno le elefantie che operazioni di controllo dei seggi per il sindaco Enzo Napoli c'è da affrontare la grana relativa agli equilibri da garantire prima di far ripartire il percorso amministrativo salernitano.